do un buon pomeriggio un buon benvenuto a tutti finalmente non avete problemi di accesso che bello vedere superare questa soglia dei cento collegati senza nessuno che si lamente mi manda quel paese a mezzo email perché non riesce ad entrare abbiamo grazie veramente al supporto della nostra società abbiamo fatto un upgrade della licenza ci costa qualcosina in più però di fronte a una vostra massiva partecipazione è il minimo che potessimo fare una doverosa occhiata al disclaimer sapete che fondamentale che prendiate conoscenza del fatto che all'interno di questo webinar possono esserci chiaramente analizzando dei grafici anche delle forme di coinvolgimento operativo dovete valutare che le finalità del webinar sono esclusivamente didattiche e quindi in questo caso nessuna raccomandazione di investimento o sollecitazione fatene buon uso e soprattutto ragionate con una grande attenzione al vostro profilo di investimento al vostro profilo di rischio e alla propensione al rischio che chiaramente non posso definire e non posso conoscere a priori perché siete davvero in tanti arrivano tanti complimenti sono un po' narciso e mi fa piacere fateli sempre mi spingono anche quando arriviamo al venerdì e siamo un po' stanchi ad essere ancora abbastanza dinamico detto questo andiamo subito a vedere come si muovono i mercati e soprattutto che cosa sta facendo l'analisi intermarket che indicazioni ci dà per quello che potrebbero essere poi le opportunità dei prossimi giorni o quanto più per capire chiaramente che tipo di struttura tecnica si sta preparando per la settimana successiva il primo grafico sotto osservazione lo vedete è quello del dax di francoforte stiamo sempre aspettando che decida un po' che tipo di andamento intraprendere nel senso che ribadisco la mia view assolutamente molto positiva sui mercati azionari sui mercati scusate se sorrido ma c'è già in pietro che fa lo spiritoso sui mercati azionari ve ne parlo da lungo tempo sono dell'avviso che se ci sarà una fase correttiva è assolutamente da considerare fisiologica quindi nulla di particolarmente preoccupante credo ancora che la debolezza vada comprata personalmente essendo venerdì ed avendo visto questa divergenza short sul dax ho alleggerito le posizioni del nostro portafoglio azionari italia quindi sono andato sicuramente in riduzione di esposizione ma spero che il mercato venga giù in una fisiologica pausa correttiva e sulla debolezza un po più chiaramente non accennata come in questo momento ma un po' più estrema probabilmente riprenderò a comprare asset azionari per il momento sto portando a casa dei buoni risultati e mi sembra anche doveroso dato il clima chiaramente festivo che sta arrivando non è venerdì e sabato non sappiamo mai che cosa succede rimanere esposto con 70 per cento sull'azionario col mio gruppo di trader sull'azionario mi sembrava eccessivo oggi ho portato a casa nel green power con un ottimo risultato intesa san paolo anche cnh industrial quindi tre prese di beneficio di cui sono particolarmente contento arrivano già molte domande vi ricordo che siete più di 130 persone quindi calma nel farle una per volta salino mi chiede se entro con tutte le divergenze entro con tutte le configurazioni che lavoro da una vita quindi la divergenza è quella che cerco completamente più insistenza è quella che mi ha riservato ad oggi le maggiori soddisfazioni quindi il mio approccio al mercato è assolutamente ripetitivo e semplicistico nel senso che ogni qualvolta intravedo la mia caratteristica figura di inversione o di continuazione ci vado dentro senza particolari problematiche Stefano bella domanda penso la volesse fare anche Monica che non so se è già collegata me ne ha parlato oggi privatamente mi diceva la correlazione dollaro centrica è saltata allora tenete presente che è un fenomeno che osserviamo quasi sempre dopo le minute della Fed ogni qualvolta la Fed dà un parere su quelle che saranno le sue prossime mosse questa correlazione tende effettivamente a sganciarsi è successo anche oggi abbiamo un euro dollaro in ascesa però riguarda se ci fate caso solo la variabile euro quindi solo l'euro si sta apprezzando contro dollaro perché se consideriamo il dollaro nella sua interezza noteremo che dollaro yen invece è abbastanza tonico quindi è una decorrelazione particolarmente di breve termine e la mia esperienza mi insegna che tende a rientrare abbastanza rapidamente quindi credo che lunedì o martedì ritroveremo la solita struttura nel senso che o vedremo il dollaro a retrare quindi anche il dollaro yen e il dax e il resto a scendere o viceversa vedrete che l'euro dollaro perderà un po' della sua forza relativa del momento e ritornerà su valori assolutamente più congeniali e più logici in termini intermarket. Roberto la posizione è che lei sta prendendo un conto in tier 1 assolutamente come trading account perché non c'è un manager che gestisca il suo account quindi è lei che fa le operazioni e tecnicamente deve dichiarare appunto di essere il trader. Biagio dice riuscire a divulgare argomenti complicati con semplicità non è banale ok 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 grazie ragazzi lunedì giustamente Biagio segnala che oltreo c'è uno sarà bank holiday quindi un weekend molto lungo bella giusta informazione molto utile la ritengo assolutamente un'informazione molto ma molto importante. Detto questo andiamo a vedere un po' il mercato lo vedete il DAX sta ballonzolando praticamente in maniera abbastanza evidente su questa dinamica supportiva intermedia sappiamo che il trend primario del DAX è stra long lo abbiamo osservato valutato e monitorato più volte suona un piccolo campanello d'allarme secondo quello che è il nostro approccio perché vediamo realizzare massimi crescenti sull'asse dei prezzi e viceversa massimi decrescenti sul commodity channel index. Siamo ancora ben sopra e ben stabilmente sopra la zero line del CCI quindi un trend che possiamo assolutamente definire ancora long stra long direi vedete non ce la fa neanche a fare una piccola correzione sta di fatto che sapete questa è una figura cosiddetta di warming e quando c'è un warning di questo tipo è opportuno non sottovalutarne i potenziali effetti. Ritornando sul grafico daily ritorniamo una view panoramica più di lungo sul DAX su Francoforte borsa primaria per noi europei e quindi vi do anche chiaramente un riferimento del perché dico che i mercati hanno ancora tanta benzina in salita perché come vedete siamo in una zona tutto sommato abbastanza neutrale nulla di particolare una correzione la ritengo fisiologica anche per recuperare un angolo di ascesa che credo sia questo decisamente più compatibile e non esasperato come quello attuale ma credo proprio che nel medio lungo termine chiaramente parlando di trading quindi nel giro di due o tre mesi potremmo e dovremmo rivedere i mercati molto più vicini ai massimi dell'anno che non ai minimi questa almeno è la mia idea quindi benvenga una correzione se ci sarà sarà una correzione fisiologica permetterà chiaramente a chi è ancora fuori dal mercato di entrare e dal punto di vista pratico questo potrebbe essere un'opportunità per noi tutti sì non vedi gap perché sono quotazioni di indici h24 sabbi sarino è la prima volta che ci segue e quindi in h24 noi copriamo fra virgolette tutto il mercato anche notturno adeguando il prezzo del cfd sull'indice a quelle che sono in quel momento le battute dei mercati più come dire più importanti quindi tecnicamente hai un grafico senza gap e soprattutto hai la possibilità qualora qualcosa non vada come vorresti o vada particolarmente bene prima dell'apertura dei mercati ufficiali di andare eventualmente ad operare a chiudere l'operazione la matrice fondamentale sì sì h24 confermo sarino la matrice fondamentale della struttura attuale che osservate sul dax è stato il grande breakout come vi dicevo della zona di resistenza dinamica intermedia quella che vi sto facendo vedere adesso tutto parte da questo breakout un breakout preceduto ancora una volta da una divergenza rialzista la vedete qui breakout in area 9.750 da quel momento in poi bando alla paura il mercato secondo me è ritornato molto long ripeto questo non vuol dire che salirà ininterrottamente nelle prossime ore tant'è che come vedete ho già piazzato un 6 stop sulla mia piattaforma vedete questa linea verde se sfonda 10.040 vado short e con un target chiaramente che vuole andare pian pianino verso zona 750 dove ritengo che ci sia un po' l'esaurimento della dinamica fortemente potenzialmente correttiva che potrebbe arrivare non sono 20 lotti domenico facciamo attenzione perché ricordatevi che quando parliamo di dax con t1 fx il valore del size dell'otto è uguale a 1 quindi 20 lotti e meno di un lotto pieno di dax ricordatevi le size eccolo qua un lotto equivale a un micro lotto quindi in questo momento a circa 9.600 euro di controvalore 10.000 euro di controvalore 20 lotti sono 200.000 euro non sono i 20 lotti che normalmente visualizzi con altri broker questo permette a nostro parere anche un controllo più efficace dell'everage finanziario di non evitare e di evitare chiaramente di andarsi ad imbucare in operazioni troppo esasperate con uno scarso controllo del rischio da parte magari dei neofiti vincenzo mi chiede ciao pietro buon lavoro una domanda che è venuta ora in mente osservando il dax i tuoi stop e te che sono statici come rapporto rischio rendimento o li imposti di volta in volta no assolutamente hai detto una cosa giustissima sono statici e seguono una sola regola quando entro in una posizione non faccio mai un'operazione se il rapporto tra lo stop e il target non è superiore a 1 a 2 quindi io non entro in posizione se a livello di studio tecnico non ho una possibilità di rendimento doppia rispetto al rischio che corro quindi in linea di massima se vedo che a livello di figura tecnica c'è la possibilità di trovare uno spazio superiore a 2 l'operazione la faccio se lo spazio è inferiore a due volte il rischio che sono costretto a correre entrando in posizione l'operazione tranquillamente non la porto avanti è evidente che se dovessi entrare a questo punto lo stop sarebbe più in basso quindi il rapporto rischio rendimento vedi vincenzo quello adeguato alla dinamica attuale ai massimi che ha segnato il mercato adesso rischio questa percentuale di stop questo box di stop per un rendimento come vedi due volte due volte qualcosa potenzialmente superiore però lo stop è chiaramente statico perché lo vado a piazzare sopra i massimi relativi viceversa il target è dinamico perché il mio obiettivo col tempo è di arrivare a toccare questo supporto non so quanto ci vorrà più o meno area 9750 tutto qua allora vediamo vediamo audio assente mi dite no non per tutti a quanto pare non tengo conto dei rimbalzi sul pivò no assolutamente no non lavoro con i pivot point non li vedete sul mio grafico quindi tecnicamente parlando io non lavoro con i punti pivò confermo questa cosa ok per l'audio adesso andiamo a vedere un po tutti i grafici anche per domenico sapete la solita sequenza ho voluto solo farvi vedere quella che a livello di impatto complessivo può essere un po la dinamica più importante che osserviamo sul mercato adesso andiamo a vedere che cosa ci dice il mercato ci dice su dollaro yen ad esempio che è la fase di come dire di trading range prosegue ancora abbastanza definita area di resistenza 120.80 area di supporto strategica 118 e 90 sapete che correliamo all'andamento del dollaro yen il concetto di risk on risk off risk on quindi propensione al rischio e mercati in salita se dovesse chiaramente salire oltre area 120 80 121 come vi ho appena detto risk off quindi fuga dal rischio fuga dall'azionario qualora dovesse esserci una perforazione ribassista allo stato attuale è solo un estenuante come giustamente dice giovanni trading range ideale per fare del buon trading con un rischio abbastanza limitato però non ci dà quelle indicazioni intermarket che cerchiamo osservando chiaramente l'andamento del dollaro contro una delle valute più importanti del mondo quindi contro yen una cosa importante guardando questo grafico come vedete anche se dievemente dollaro yen sta salendo andiamo a vedere subito il cugino quindi il suo antagonista o comunque la terza valuta mondiale dollaro euro yen coprono l'80 per cento degli scambi a livello mondiale notiamo un'anomalia la cosiddetta decorrelazione perché stamattina il dollaro euro dollaro dopo le minute della fed di ieri si è svegliato abbastanza tonico ha rotto questa resistenza dinamica io l'ho comprato vi ricordate era in posizione già ieri vediamo un po le operazioni che abbiamo portato a casa da stamattina periodo personalizzato oggi le operazioni che abbiamo visto chiaramente insieme ecco ho preso uno stop sul dollaro cad e ho fatto un gain su australian dollar di 671 euro e ho potenzialmente forse liquidato troppo in anticipo un buy su euro dollaro che avevo fatto sempre ieri sera quindi dal punto di vista pratico la giornata è attiva di 473 euro il saldo di questa piattaforma demo che per legge posso che devo usare è diventato abbastanza interessante ciò detto fatemi chiudere skype perché altrimenti non ne vengo più a capo un attimino solo arrivano troppe richieste di collegamento e non è il momento eccolo qua scusatemi ancora ciò detto dal punto di vista pratico c'è una momentanea decorrelazione come dicevo poc'anzi è una decorrelazione effettiva dovuta appunto alle parole della federal reserve come vedete impatta solo sull'euro non sul dollaro in generale perché è vero che l'euro si è decorrelato ma il dollaro yen no e altre valute contro dollaro non si sono decorrelate quindi in questo momento è un fenomeno episodico relativo solo all'area euro che purtroppo potrebbe importare ancora una volta le necessità di svalutazione degli americani è già successo in passato vediamo se questo fenomeno rientra guardando il grafico nella sua specificità è un grafico assolutamente long al momento ha breccato questa resistenza dinamica con grande chiarezza un'eventuale correzione in area 1 12 e 20 sarebbe un perfetto pullback e quindi dovrebbe agire da trampolino di lancio per una nuova accelerazione rialzista quindi attenzione nel breve potrebbe correggere abbandonare questo momento di correlazione però finché si mantiene al di sopra di questo supporto dinamico che ha violato ogni impatto con la vecchia area di resistenza che ora fa da supporto va considerato come un impatto da comprare da notare anche una cosa che l'area di risk off come abbiamo visto per il dollaro yen è più in basso sull'euro un euro sotto area 1 10 41 10 40 farebbe schizzare le borse alle stelle perché andrebbe a trasferire ancora una volta una informazione fantastica e interessante relativa al recupero di forza del dollaro e noi sapete valutiamo il dollaro per il concetto di dollaro centricità o meno sarino no il broker è maltese non è cipriota nulla a che fare con le dinamiche con cui è vissuta a quanto pare brutte brutte esperienze arturo le linee che vedi rosse e verdi penso ti riflorissi al grafico del dax sono il verde e l'entrata potenzialmente il self stop che ho quindi l'entrata in short se dovesse rompere la trend line di supporto le due linee rosse sono una lo stop loss e una il target io non faccio mai operazioni se non ci sono stop e target sul mercato le linee oblique quali sono le oblique questa rossa e verde quello è il super trend quello è il super trend è un indicatore che uso molto ed è un indicatore trend follower su cui peraltro andrò sviluppare massivamente come vedete anche da questa tabella la mia academy perché parleremo moltissimo del super trend faremo trading con il super trend sia con l'indicatore che con l'expert advisor che poi sarà a vostra disposizione non so quali altri linee rosse e verdi a queste tratteggiate sono un indicatore di trend ok ho capito è un mio piccolo indicatore che poi andrò a depositare nell'area riservata a voi per il download mi dà semplicemente dei piccoli potenziali breakout da tradare velocemente nell'intraday non è una dinamica di medio lungo ma semplicemente una dinamica di brevissimo termine grazie a te scusatemi se oggi sono interrotto tante volte ma purtroppo sono contentissimo siete tanti e io cerco come sapete di rispondere in tempo reale a tutti e questo fa perdere un po la la consecuzione di quello che dico quindi ribadendo dollaro iena abbastanza tonico punta verso area 121 euro dollaro in decorrelazione momentanea probabilmente lo vedremo ritornare in area 112 50 in tempi non lunghissimi la sterlina che ha un trend ascendente di lungo sembra sentire io sono ho provato un ingresso long su sterlina non ne sono più convinto il trader più stupido è quello che non cambia mai idea vedete ho provato a comprare questo supporto dinamico mi taglio ho uno stop più in basso non sono più convinto mi taglio fuori subito perché appunto sulla sterlina il trade era di breve ma non dimenticherei che c'è divergenza di lungo quindi attenzione al cable perché sta rompendo il primo supporto dinamico il che è abbastanza evidente palese ma soprattutto va alla rottura con una palese logica divergenziale prima e seconda vedete i prezzi salgono l'indicatore scende e come siete oramai allenati a vedere stiamo per attaccare la zero line del cci quindi la prossima candela sulla sul cable è una candela sicuramente molto molto ampia e di accelerazione perché o abbiamo una reazione verso l'alto quindi fa come ha fatto precedentemente tocca e riparte oppure se la sfonda aspettatevi una candela molto estesa occhio perché un momento strategico per la per la per la sterlina sarino io ti ringrazio per essere intervenuto oggi ma non posso segui più webinar perché di queste logiche divergenziali ne parlo e magari sentirai che ne parlo anche fra un po' questa è una divergenza di basista pura non è una logica divergenziale vedrai che su qualche altro grafico avrò un modo di accontentare la tua domanda ci mancherebbe sono contento che vogliate approfondire quindi occhio al cable in questo momento che come vedete non è decorrelato a livello dollaro infatti si stanno comprando dollari se si vende st ordine a dollaro col dollaro al denominatore vuol dire che il dollaro viene comprato non venduto il che ribadisce ancora una volta che sia il dollaro yen eccolo qua sia sterlina dollaro vedono i compratori di dollari in azione non certamente i venditori solo contro euro osserviamo questa momentanea decorrelazione detto questo un'occhiata a un cross bellissimo australian dollar avete visto stanotte ci ho fatto un 700 euro per me questo è un breakout di lungo termine quindi d'ora in poi stop al selling allo short selling contro australiano mi sembra un'inversione di lungo cosa fare ha spinto bene non dimentichiamo buongiorno franco non dimentichiamo che la fase di ascesa non è partita dal breakout non è solo questo pezzetto è partita da qui sotto quindi ha fatto tante figure si vede meglio in h4 quindi è evidente che la spinta c'è stata e anche abbastanza poderosa cosa sto aspettando per ora porto a casa e sono anche contento aspetto che vada a baciare questa trend line di supporto quindi ancora una volta una potenziale punto di impatto pullback se volete chiamarlo così e da qui in poi mi rimetto compratore di dollaro australiano perché perché non dimentico la figura daily è un breakout assolutamente che molti money manager stanno lavorando quindi credo ci saranno in versioni di portafoglio abbastanza consistenti però l'angolo di ascesa di ascesa attuale è assolutamente innaturale insostenibile come dico spesso quindi mi aspetto una correzione per recuperare un angolo più dolce se volete usare questo termine e da qui vado di nuovo a comprare con stop abbastanza stretto questa è la mia idea sull'australiano il messaggio per voi è non vi ci mettete contro perché credo che abbia invertito tendenza giovanni vediamo l'euro di dopo completiamo l'analisi intermarket dando un'occhiata anche al neozelandese che ha anticipato il movimento del dollaro australiano e adesso è arrivato su un punto di impatto statico abbastanza importante l'area 0 67 anche qui facciamolo correggere senza metterci contro il trend dominante che sembra essere diventato rialzista e in caso di correzione cerchiamo di trovare quel supporto dinamico facile da tradare su cui rientrare in posizione long il mio consiglio è sempre lo stesso non tradate contro il trend primario attenzione per quanto riguarda il new zealand anche al fatto che c'è una palese divergenza di bassista non so se l'avevate notata primo secondo e terzo massimo crescente primo secondo e terzo massimo decrescente questa è una divergenza short per gli amanti del trading e della speculazione si va a trovare il supporto dinamico come vedi serino stiamo comunque già spiegando la logica operativa sulle divergenze in questo caso i supporti possono essere identificati in un ventaglio di supporti dinamici e chiaramente di maggiore maggiore la reattività minore la validità degli stessi quindi per chi volesse tradare questa divergenza short che mi sembra tutto sommato abbastanza evidente la il consiglio è sempre quello di aspettare il breakout del supporto dinamico e allora quando ci sarà il breakout sul supporto dinamico per me è un segnale di sell abbastanza come dire interessante affidabile tradabile anche perché è andato velocemente ed eccessivamente in ipercomprato punti di impatto in caso di short selling questo fascio di supporti dinamici che stiamo montando sul grafico è soprattutto qualora questo fosse il punto di ingresso corretto ci affideremo poi a fibonacci per farci dire quale che potrebbero essere le aree di maggior impatto sia statico che dinamico ok sabrino sarino mi chiede un'analisi su euro lira turca andiamo a vedere finestra grafico accontentiamolo è una new entry di domande me ne avrei fatte una tonnellata voi potrò rispondere a sarino questa volta un po prima allora sto osservando il grafico giornaliero ovviamente dal punto di vista pratico è evidente che ha rotto un supporto dinamico ascendente abbastanza interessante e tecnicamente parlando questo è un livello di breakout quindi chiudere le posizioni long questo è quello che il grafico indica andiamo però a vedere la dinamica in h4 eccola qui potrebbe dovresti monitorare nelle prossime ore un tentativo di recupero perché lira turca mi date il simbolo per favore io sto diventando sto diventando vecchio euro 3 eccolo qua scusatemi allora reset figura di niente purtroppo è registrata quindi potrà ridere di me tutto il mondo messo che ci sia qualche pazzo che si fa vedere poi la registrazione del webinar a parte gli scherzi mi sembra che sia una fase abbastanza importante nel senso che abbiamo ben definite le aree massimo che sono queste quindi un'area di massimi relativi quasi allineati che hanno fatto un po da tappa ad ulteriori tentativi di accelerazione rialzista come vedete da queste piccole linee tratteggiate di cui mi avete chiesto prima qui c'è stato il breakout di una piccola posizione di congestione di breve e il cross è entrato palesemente in una fase di liquidazione per quanto riguarda le posizioni long secondo me sono da liquidare si può tentare di attendere un po per vedere se va a fare pullback qui e poi da qui dovrebbe riprendere a scendere questa è la sensazione del momento il grafico non è pulitissimo so che molti ci stanno lavorando per chiaramente per l'interessante remunerazione sullo swap che dà questo cross io preferisco lavorare su grafici più liquidi e più scambiati dal punto di vista pratico però vedo un breakout di un triangolo di congestione abbastanza ben costruito avremmo potuto anche guardare questo un po più chiaramente più dinamico e quindi più tempestivo poi solo se sei long puoi solo valutare un eventuale è chiaramente test di vecchie aree di resistenza ma dovrebbero essere tutti dei pullback ribassisti in h4 fra le altre cose attenzione perché mi dice dov'è 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 in h4 ad el che visto che mega divergenza è una divergenza chiaramente da eccesso di venduto ad el chi si riferisce sarino a questa dinamica qui i minimi crescenti sul cci e decrescenti sull'asse prezzi per noi questa è una figura potenzialmente di reazione ti ribadisco l'idea nel lungo per me è da chiudere probabilmente nel breve puoi cercare di alimentare o meglio di osservare un rimbalzo che potrebbe essere anche abbastanza interessante e quindi entrare in una posizione meno sacrificata possibile detto ciò ancora tante domande e anche un complimento lo leggo questo così rifiato Alfonso complimenti per la sua capacità espositiva nel divulgare le sue nozioni e mi credo non è da tutti è un ottimo formatore sono sicuramente meglio come formatore che come trader su questo non c'è dubbio se fossi bravo come trader come lo sono a parlare sarei miliardario purtroppo non è detto che si abbiano le stesse qualità me la cavicchio come trader ma sicuramente nella formazione riesco a trasferire di più delle mie conoscenze è una presa di coscienza che ho fatto da diverso tempo e non me ne vergogno allora andiamo avanti e ritorniamo purtroppo doverosamente al nostro solito ragionamento quindi eravamo su New Zealand USD potenziale divergenza di bassiste in H4 correlazione con usd try ragazzi mi state portando fuori fuori webinar io io voglio farvi vedere tutto però un attimino solo ok questa è la correlazione fra questi due cross eccola qua sono molto correlati fra di loro in questo momento anche nel breve un attimino solo e appaiono i grafici della correlazione come vedete la correlazione è strettissima in questo momento c'è maggiore forza relativa da parte di euro euro lira turca e a conferma di quello che dicevamo di quella figura potenzialmente rimbalzista di breve che potrebbe aiutare il nostro amico ad uscire meno male di quanto stia chiaramente battendo adesso l'asse dei prezzi nel medio lungo termine vediamo come si soffre al pombo nei grafici aspettiamo che arrivino i dati eccolo qui in H4 confermo la correlazione è strettissima si muovono davvero di pari passo ok ritorniamo adesso ai mercati che ci piace analizzare e lasciamo perdere le eccezioni quindi detto di New Zealand e USD avevo adesso ancora c'è da guardare il dollaro CAD interessante la configurazione di dollaro CAD nel senso che la discesa come da pronostici è stata molto profonda guardiamo il grafico daily e da cui si può percepire in pieno direi l'impatto della fase discendente che in verità abbiamo interpretato abbastanza bene negli ultimi tempi attendevamo questa correzione è arrivata sto pulendo un po' il grafico da troppe trendline vi ricordo che in questo è un momento molto importante perché la correzione sta approssimandosi a quello che è il supporto dinamico di lungo il trend è ancora potenzialmente rialzista nel lungo e quindi dal punto di vista pratico andiamo a vedere che cosa succede allora quando area 1.28 dovesse essere toccata quest'area dovrebbe riessere di nuovo un'area di accumulazione per il dollaro CAD e ricordando la famosa correlazione inversa fra appunto dollaro CAD e petrolio potrebbe realizzarsi una dinamica di questo tipo dollaro CAD ci viene a chiudere la figura di arretramento e dal punto di vista pratico questo comporta che il petrolio arriva a target secondo me in area 52.50 da quel momento il petrolio arretra un po' e dollaro CAD può essere libero di rimbalzare allo stato attuale mancando davvero poco al centrare questo target importantissimo io come forma di alert quindi ci metto veramente poca roba sopra mi metto un buy limit di 0.50 lotti in questa posizione quindi normalmente lavoro con 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 dimensioni più più adeguate in termini di lot size ma la mia intenzione è semplicemente di andare a a tradare un eventuale touch di quella trend line che dovesse avvenire quando io non sono attento è un consiglio che do spesso metteteci anche un micro lotto niente di particolare però sapete che allora quando il mercato dovesse arrivare in questa zona e voi magari state giustamente tranquillamente dormendo sarete entrati io piazzo un ordine pending a 1.2850 andiamolo a fare insieme eccolo qua mi metto un pending order quindi ordine pendente ci metto davvero uno 0.1 perché mi serve solo per ricordarmi la posizione e un buy limit eccolo qua l'ho già piazzato due volte scusatemi è un buy limit lo cancello lo facciamo insieme preferisco farvelo vedere si può fare chiaramente anche col chart trading no andate qui vicino all'area dove volete comprare o vendere tasto destro compra vendita in questo caso io voglio fare un buy limit mi dà già come valore 0.50 perché nel mio book ho impostato 0.50 se qui ci metto 0.1 e arrivato col tasto destro del mouse in questa zona verde posso dare un buy limit da 0.10 vedete comprerò in questa zona quindi se mi tocca e compro una quantità assolutamente irrisoria ma semplicemente per me è un alert occhio quel cross è arrivato in quella posizione volevi ricordartene che ho comprato un chip valuta adesso se entrare con una size più completa o meno mi serve solo come alert non sonoro ma realmente operativo tutto qua quindi dal punto di vista esclusivamente tecnico credo che sia importante verificare cosa succede allora quando usd cad andrà a toccare area 1.28 1.28 50 dinamico e dovrebbe potrebbe ripartire al rialzo e portare indietro il petrolio perché per chi è appena arrivato perché usd cad e petrolio sono molto correlati inversamente eccoli qua abbiamo sempre osservato grandi allunghi del petrolio in giallo verde quando lo usd cad è crollato e viceversa cosa succederà quindi se è vero come ho detto che usd cad ci va a fare 1.28 50 da quel momento in poi usd cad accelererà il rialzo e il rimbalzo del petrolio potrà essere definito come esaurito questa correlazione è palese anche su dinamiche di breve di lungo e via dicendo chi mi segue da tempo l'ha già vista questo è il grafico giornaliero guardate grande rialzo dello usd cad grande perdita del petrolio arretramento di usd cad rimbalzo del petrolio quindi sono davvero correlati inversamente tra di loro ciao fabio ben arrivato allora dal punto di vista pratico grazie maurizio grazie tante quindi by limit confermo giacomo assolutamente dove ti stopperesti dice fabio nel caso puoi anche piazzare lo stop dell'operazione in questo caso non lo metto perché è un'operazione con una size molto lì molto piccola però se mi dovessi stoppare chiaramente lo farei una sotto area 1 e 28 via quindi area 1 27 75 1 27 80 lì mi fermerei e ma ripeto mi sembra buono il rapporto rischio rendimento in quell'area è cioè comprando in quella zona peraltro non so se ci avete fatto caso però anche se in maniera timida una logica divergenziale si sta creando vedi vedi salino che ci siamo arrivati ossia non due apici molto definiti come era questa divergenza rialzista no in cui abbiamo il primo apice e poi abbiamo il secondo questa era davvero una divergenza perfetta e da lì il mercato pumete schizzato su quella è una divergenza rialzista la logica divergenziale quando osserviamo due apici meno lontani fra di loro ma leggermente in controtendenza rispetto all'asse dei prezzi qui li vediamo leggermente salire i prezzi scendono sappiamo che qualora dovesse scivolare ancora più in basso una reazione non sarebbe tanto lontana dal realizzarsi tutto qua quindi io aspetto lì aspetto lì il mercato per quanto riguarda dollaro cad gli ho messo un buy limit di alert ma se dovesse reagire come credo come auspico vado 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 long abbastanza pesante perché perché quando compro vicino ai supporti o vendo vicino alle resistenze rispondo quindi indirettamente a a fabio che mi chiedeva dove mi stoppo vedi fabio uno stop ridicolo come ti ho detto lo disegniamo con un box rosso tecnicamente se mi stop in area 1 27 70 mi stoppo qui questo è il mio box di stop e viceversa se ho avuto ragione e reagisce ne ho di spazio per guadagnare no quindi rapporto rr assolutamente sbilanciato a mio favore e non a favore del broker o del mercato che molte volte sono la stessa cosa ok papà ha detto questo grazie a te fabio adesso mi chiede giovanni di dare un'occhiata ad euro audi è il momento di accontentare le vostre domande su qualche altra valuta ma non dimenticate che dobbiamo ancora vedere indici e commodities quindi abbiate la pazienza di aspettare la fine per domande alternative allora euro audi finestra grafico cosa volevi farci vedere dice lo subito dai vediamo se vediamo le stesse cose allora giovanni dice potresti mettere un buy limit in approccio di supporto dinamico da fine aprile e quando vi arrivano queste informazioni io ringrazio chi mi interrompe wow 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 veramente informazione interessante ce lo metto il buy limit allora vediamo un po di misurarlo grazie intanto giovanni vediamolo in h4 con divergenza realzista no giovanni non ci metto il buy limit entro proprio allora entro con un lotto andiamo a fare l'operazione ricordatevi che io sto operando in demo bravo cattivo che sia non posso operare in reale quindi quello che vedete è semplicemente un esercizio didattico allora metterei lo stop sotto area 154 non mi piace metterlo sulla figura tonda quindi 153 90 di stop take profit ci piazzo un vediamo il take profit vediamolo diciamo che l'obiettivo master quello che mi farebbe davvero felice e contento sarebbe questa zona qui parto con quell'idea di take profit poi la adeguerò col tempo quindi al momento se dovessimo aver ragione l'area take profit dinamica possiamo stimarla in una zona fra 1 e 61 e 1 e 60 ci mettiamo un 159 punto 80 poi andremo a valutare insieme e vado al mercato la leva finanziaria sarino è sicuramente abbastanza consistente deve a 1 a 10 ma sono flat di portafoglio e normalmente quando ho una posizione che non va nella mia direzione la leva è relativa perché stop subito vedi come stretto lo stop si può compensare l'eccesso di leva con stop più stretti no non è che la leva sia il problema il problema è quando si usa leva e non si stoppa ok andiamo avanti quindi ti ringrazio giovanni è un'operazione che mi stuzzica molto perché come tu sai ed è il motivo per cui mi l'hai segnalata c'è una grande divergenza di alzista serino non logica divergenziale in questo caso ma divergenza pura ossia addirittura tre apici crescenti o tre pedici come si dice dovrei capirlo prima o poi nell'asse cci hai e viceversa tre minimi decrescenti sull'asse prezzi la logica vorrebbe che aspettassimo ovviamente il breakout di una resistenza questo dice il mio approccio metodologico ma quando questo tipo di situazione si realizza contestualmente quindi voglio chiarire questo aspetto perché non aspetto il breakout perché a differenza di altre divergenze questa avviene impattando una area di supporto dinamico strategica quindi io non ho bisogno di aspettare il breakout per capire se rimbalza perdo un anticipo di posizione strategico in questo caso mi fido non del breakout della resistenza ma molto della tenuta del supporto chiaro ok mi sembra che sia chiaro per tutti quindi vado sempre a valutare quello che è preponderante nel grafico è più importante secondo voi in questo grafico la rottura di una resistenza di breve o la tenuta di un supporto strategico quindi volendo sempre lavorare con la doppia conferma divergenza più trend line rispondetemi perché è importante questo aspetto perfetto arturo grazie è palesemente preponderante in questo tipo di analisi un supporto quella resistenza che ho messo una resistenza di breve ma ragazzi miei guardate questo supporto 1 2 3 4 e oggi siamo al quinto può anche dare che può anche darsi che lo buchi cioè che che strappi al ribasso però intanto è un grande supporto su cui un minimo di reattività da parte degli operatori dovrebbe esserci lo stop lo ripeto è ridicolo il target potenzialmente interessante e poi è evidente che si va in h4 e quando il mercato arriverà in questa zona si farà un po' analisi intermarket e si potrebbe valutare una presa di beneficio al 50 per cento serino sarino in maniera tale da ridurre il leverage finanziario quindi non è escluso che se la gamba di allungo arriva velocemente qui me ne chiudo metà a quel punto ritorno in un leverage decisamente più adeguato e vedo di giocarmi scusatemi il termine che io odio il breakout e rialzista tutto qua ok sì vincenzo è tutto giusto tu dici vincenzo dice mi piace come stiamo andando avanti adesso vincenzo dice potrei potremmo fare anche un'operazione in cui si entra con un chip quindi con una quantità limitata e chiaramente sul breakout si va a comprare sarebbe assolutamente più logica e più coerente farla così lo ripeto non sto tradando in questo modo perché mi sembra che questo supporto strategico sia di particolare di particolare rilevanza quindi do una preponderanza do una preponderanza alla tenuta del supporto è un caso specifico di questa figura non è un caso tra virgolette applicabile sempre la tua logica assolutamente sana mi ci metto qualcosina qui e in caso di breakout chiudo aumento la size io invece ti sto dicendo ci metto subito qualcosa tutto qui in caso di test immediato me ne liquido metà e poi sul guadagno sono più psicologicamente portato a farla correre tutto qua sì adesso andiamo avanti quindi abbiamo visto anche questa ringraziamo ancora una volta giovanni ritorniamo in coerenza abbiamo visto le valute primarie andiamo a vedere velocemente commodities e materie prime occhio a loro porca miseria occhio a loro porca miseria rotto al rialzo è andato avevo mi permetto di auto celebrarmi avevo ragione qualche giorno fa a chiamare a chiudere lo short su loro vi ricordate era uscito prima come ho fatto oggi sulla sterlina non mi convinceva e questa è un'entrata lunghe su loro qui bisogna comprarlo loro poca roba perché occhio ai volumi e il ticker size dell'oro non è come quello degli indici è tradizionale quindi un lotto di oro i prezzi attuali vale vale 115 mila dollari state attenti state attenti con chiaramente la size ci vado con un chip come si suol dire perché sono in ritardo di entrata quindi un decimo di un lotto niente di particolare voglio semplicemente entrare in posizione e poi ragionarmela quindi voglio esserci perché molte volte se non si entra in una posizione non la si segue invece il fatto di avere lì una dinamica per cui hai un qualcosa che ti ricorda che stai tradando quel cross o quella valuta aiuta a rimanere più concentrati anche se poi non ti rende tantissimo ma aiuta a tenerla sott'occhio metto 1125 come stop target 1190 vediamo cosa succede potrei incrementare nelle prossime ore uno stop assolutamente inadeguato al target quindi lo devo per forza di cose riportare verso l'alto in questo caso vedete lo porto in correlazione con rapporto rischio rendimento 1 a 3 1143 di stop 1190 di target vedremo poi nelle prossime ore ovviamente bravo giannetto ieri ho chiuso lo short ti ricordi bene se gold va su l'azionario viene giù ma perché perché fa da bene rifugio sì o meglio ni ma soprattutto perché il gold è correlato inversamente al dollaro lo sai quindi il gold rimbalza quando il dollaro si indebolisce perché è quotato in dollari e quindi si compensa l'indebolimento del valore reale con una crescita del controvalore del chiaramente come posso dire del valore di acquisto del potere di acquisto che ne deriva vendendolo e in questo caso sta segnalando che forse è in arrivo un po di vendita di dollari fra le altre cose guardo uno dei miei quattro monitor vedo che il dax sta arretrando quindi questa ascesa del gold è coerente con quello che stiamo in questo momento osservando a livello intermarket molto bello anche l'argento ve ne ho parlato diverso tempo fa l'ho già tradato peccato che ieri non abbia fatto pullback su questo triangolo altrimenti saremmo entrati di nuovo ragazzi io in demo e ognuno di voi come ritiene opportuno perché c'è stato breakout ieri è tornato verso il basso se faceva altri 10 pips pizzicava questa trendline di supporto eravamo già entrati peccato rimane chiaramente inserito in dinamica long infine il petrolio intanto l'euro di buy sta andando benino 134 euro ed ecco il petrolio sul petrolio veramente vorrei che mi faceste sentire un grande applauso perché vi sto parlando di questo triangolo di congestione da una vita mi sembra di avervi avvisato che quando rompeva schizzava rialzo io negli ultimi giorni ve l'ho tradato 52 volte ve l'ho tradato 52 volte nello storico completo guardiamo quante operazioni abbiamo fatto sull'oil recentemente eccolo qua guardate sono queste qui sotto è entrato più 183 è entrato più 13 è entrato più 1800 è entrato più 300 quindi qui deve scattare l'applauso ma perché siamo amici non perché io stia dicendo seriamente perché vi ho parlato più volte vi ricordate c'era anche viaggio quando ho approfondito questa cosa viaggio milano mercoledì scorso e si diceva questo è un triangolo di continuazione dovrebbe esplodere a rialzo siamo pronti a tradarlo anche se esplode a ribasso ci siamo limitati in questo caso a misurare l'altezza del triangolo a proiettare questa altezza in caso di breakout e a ipotizzare due target uno a rialzo uno a ribasso ve l'ho postato 3 miliardi di volte su facebook vi ho fatto vedere sempre la correlazione petrolio dollaro cad vi sembra casuale e qui basta con gli applausi perché c'è troppo rumore che questo signore qui sia crollato lo vedete perché il dollaro cad è crollato non è sceso e quest'altro signore qui si è schizzato a rialzo non è casuale questa è una correlazione intermarket negativa assolutamente potente e resistente quindi come dice angelo chapeau davvero è stata una bella è stata una bella sono sul grafico xti sono sul petrolio sono sul grafico xti quindi bella operazione e ricordatevi essendo davvero forte questa correlazione fra questi due signori questo è stato davvero un rovescio alla federer angelo tu sai che la leggenda e roger federer questo è come aver tirato un rovescio a una mano a un braccio solo alla federer e fare un passante lungolinea sul set point di una partita di un torneo amatoriale a cui stai dedicando tutta la tua vita a parte gli scherzi questa correlazione è assolutamente una correlazione palese ed evidente non dimenticatela potete fare del buon trading su questa correlazione perché è davvero molto ma molto ma molto efficace e duratura a quanto pare finché dura godiamocela quindi il petrolio che cosa ha di spazio ancora secondo me ancora un po di spazio verso area 52.50 e ricordatevi è sempre è sempre quello spazio che manca allo usd cad secondo me per completare il grafico di lungo quindi che cosa penso possa succedere se questi continuano ad essere due metronomi che usd cad venga in area 1.2840 e che il petrolio completi il suo primo rimbalzo che peraltro è un allungo oramai un'inversione di lungo in area 52.50 questo potrebbe succedere rischio rendimento quando ha toccato qualche minuto fa questa zona eccezionale perché si poteva andare by long di petrolio in quest'area piazzare uno stop tutto sommato abbastanza stretto al di sotto dell'area stessa e andare a puntare a 52.50 che ora è fuori scala con un rapporto rischio rendimento molto favorevole in ogni caso il segnale che mi permetto di darvi in maniera del tutto amichevole e disinteressata non vi permettete di tradare ve li metto uno a fianco all'altro non vi permettete di fare un trading sul dollaro caddo sul petrolio senza aver guardato il suo gemello perché questi signori che vi piaccia o meno che lo comprendiate meno che ci vogliate credere o meno fanno l'uno il contrario dell'altro quindi se state per prendere una decisione di entrare sul petrolio long o short guardate lo usd cad che sta combinando se state decidendo di comprare o vendere usd cad guardate il petrolio che sta combinando è sempre un ritengo sia un buon consiglio e lo ripeto disinteressato chiaro per tutti sì giannetto con pedro vinco facile è scarso a tennis però è un campione a calcio lì 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 pago pago pegno anche perché ho due ginocchia operate e quindi al di là della classe in dubbia faccio fatica nelle parti un po più dure del match comunque giochiamo ogni settimana ok allora andiamo avanti pedro we are talking about you come here just one minute scusate perché a questo punto l'avete provocato voi lo sapete che se io faccio i webinar troppo seri mi rompo le scatole pedro they are talking about you they say that you are always a loser in tennis but i say to them that you are really a good soccer guy so could you explain to them pietro you can speak italian poi possiamo parlare un po del pseudo italiano con il tuo amici grazie pietro e grazie a tutti per la straordinaria risposta che la promozione sta tenendo con con noi con il con il pro che la mia capacità di tennis e quasi nulla quasi nulla calcio un po meglio un po meglio un po meglio anche anche come si dice in italiano palacanestro anche palacanestro un po meglio per tenis un desastre totale e pietro è un figura un'autentica leggenda tenistica modesto e pietro molto modesto però una legge no no non so silvio non so come fede non sono che come fede nadal ora come si ma questo trova e l'altro è il gioco vicino al giorno 9 gioco vicino fabrizio sede a up atletic bilbao ok fabrizio ma viva un poco un po lontano da dove io vengo un po lontano il gioventino no è fantastico grazie pietro per l'opportunità di un po di divertimento perché venerdì per il pomeriggio per tutti e allora in serio e grazie a tutti per la magnifica risposta con il contatto e la promozione è realmente 19 di ottobre e il dato 19 d'ottobre al 18 dicembre la trading academy della figura tenistica che magari nel futuro magari nel futuro pietro è per un tennis academy no a qui in malta no a parte a parte a parla con acti 3 a parte del trading academy perché no una accademia tenistica assicché ciao a tutti salve ciao a tutti buon fine di settimana buon fine di settimana a tutti e parliamo nuovamente il lunedì pietro avanti con il tuo trading ha bevuto un po di acqua no e te senti un po meglio tutto preparato per alla fine di settimana che giocamo squash la domenica grazie a tutti un saluto io parlo di queste cose che vado a giocare a squash con pedro e a nuotare perché mia moglie potrebbe ascoltare così sa che io faccio una vita assolutamente sportiva tranquilla e non parlo mai di donne ok a parte gli scherzi sì luca ringrazio pedro tantissimo scusate per questo piccolo intermezzo ma è un po per chiaramente dai ragazzi se non sentire un'ora piena la mia voce diventa stancante e a parte gli scherzi sì siamo tutti siamo molto sportivi giannetto che che tu ne pensa la panza tradisce questa cosa ma perché io ho messo su sette chili per ogni ginocchio rotto ne ho rotto e operati due per fortuna non è un terzo se non mi sarei rotto anche quello e quindi è difficile ritornare ad essere efficace ed efficiente con un tempo domanda che non c'entra niente di luca se ero classificato vuoi la verità luca io ho un figlio di 16 anni per stimolare lui mi sono classificato 44 tre anni fa quindi mi sono classificato tenisticamente all'età di 45 anni ma poi sono quasi morto sul campo quindi mio figlio avrà avuto la sua gratificazione ma a me è costato tantissimo dai adesso ritorniamo in argomento per la promozione andrea scrivi direttamente a pedro e poi ti manderà lui o entra nella al nostro link ti manderà lui chiaramente tutti i riferimenti ti chiamerà non ci sono problemi ritornando in argomento giacomo mi chiede cosa pensi delle macd un ottimo indicatore per motivi che spiegherò durante l'academy preferisco di gran lunga il commodity channel index è la mia scelta però non è una scelta assolutistica ma io mi ci trovo bene ma le macd è la base dell'analisi tecnica come il cca e l'rsi e via dicendo quindi sicuramente un indicatore molto interessante che io però personalmente adoperò poco e quindi come sapete quando non sono in possesso di una grande come dire conoscenza su un argomento in maniera molto umido e spero che apprezzate preferisco non parlare andiamo a vedere gli indici fabio andiamo a vedere gli indici andiamo a vedere gli indici partiamo per forza di cose dal dax di francoforte su cui vi segnalo un alert perché come dicevo in apertura c'è una potenziale rottura di bassista in arrivo una fase correttiva di breve anticipata ancora una volta da una logica divergenziale abbastanza evidente aspettiamo un closing io ho messo vedete un sell price sotto 10.040 parlo dell'indice con tier one si parla di indice non di future come riferimento quotazione io vado short sotto 10.040 con stop sopra i massimi attuali se entra lo short e target quanto più vicino fabio a questa trend line di supporto questa è la mia idea ritengo che sia una correzione che il mercato a cui che non dispiacerebbe al mercato perché molti sono rimasti fuori e tecnicamente parlando non sarebbe una correzione che mi spaventa tutt'altro per me diventerebbe un'appetibile opportunità per accumulare ancora perché credo che i mercati soprattutto guardando i dax nel lungo vanno davvero verso livelli di prezzo molto più elevati d'altra parte non è casuale che ci sia un ritardo nella correzione perché i mercati come sapete non fanno mai quello che vorrebbero le mani deboli le mani piccole i trader retail purtroppo definiti anche parco buoi ma dal punto di vista pratico potrebbe sorprendere a breve e andrebbe accolta come fisiologica è interessante in questo caso al di là del supporto dinamico che ho messo in area 9720 direi di stare attenti anche ai rifacciamenti di fibonacci visto che oggi non so se ci avete fatto caso zoom un po scusate ma l'avete visto che ha fatto il triplo massimo il dax o no o l'ho visto solo io questo è un grafico a quattro ore ha tentato per 12 ore di bucare i massimi di giornata e non ci è riuscito quindi attenzione perché il triplo massimo come il doppio massimo normalmente una figura di inversione c'è poi da dire che il mercato è super tonico ipertrofico tutto quello che volete però intanto quello è un alert la rottura di trend line non lo so se sarà forzata in questo momento è questa la trend la importante non riesco a tracciarne arte sarino quindi la prima che riesco a identificare quella che utilizzo volendo si potrebbe ammorbidire la stessa lavorando in h1 e lavorando su una logica di questo tipo però stiamo parlando veramente di sottigliezze la prima o la seconda il dax è in divergenza ribassiste se dovesse chiudere sopra sotto quel supporto darebbe un segnale di correzione imminente in arrivo con primo target a mio parere l'area 9950 e successivamente un target più consistente a 9.800 dove troviamo il 38,2 di fibonacci tutto qua diamo un'occhiata anche a milano quindi detto che sul dax siamo pronti ad essere sorpresi a vederlo allungare nei prossimi giorni barra mesi fino ad area 11 mila diamo un'occhiata a milano su milano ci aspettiamo che ritorni verso area 23 7 pensate voi no scusatemi 22 parlavo del future prima in area 23 mila 22 mila e nove e come vedete anche milano di correggere non ne vuole sapere però occhio perché sta realizzando un doppio massimo su un precedente massimo relativo anche in questo caso non so se ci avevate fatto caso si vede meglio in h4 quindi abbiamo una zona fra virgolette statica di potenziale resistenza e anche una soglia fra virgolette psicologica importante dare alle 22 mila e 500 punti anche qui abbiamo sarino una logica divergenziale ossia un cci che non fa i due apici canonici tipo questi divergenza rialzista bellissima fa però una logica discendente con prezzi che fanno una logica ascendente attenzione però vi ricordo una cosa fondamentale sulle divergenze questa è una divergenza ribassista in un trend rimbalzista quindi long quindi va vista semplicemente come presa di beneficio perché quando siamo in un trend long le divergenze che vogliamo tradare sono queste sono quelle long questa è una divergenza long in una fase long questa è una divergenza long in una fase long vedete che propulsione hanno una divergenza ribassista è semplicemente una fase di assestamento dei prezzi e tende a decelerare abbastanza velocemente allora vediamo che mi dice euro dollaro h1 doppio massimo con divergenza alessandro andiamolo a vedere euro dollaro in h1 doppio massimo non vedo la divergenza onestamente vedo una logica di doppio massimo però la divergenza non mi sembra particolarmente apprezzabile sinceramente per il momento sta viaggiando bene un breakout long ragazzi questa non è non è una dinamica di arretramento vediamo la sterlina rimane deboli quindi acquisto di euro non è vendita di dollari ancora occhio a pensare che i mercati scendano e acquisto di euro ricordatevi per il momento non è vendita di dollari perché se vedo l'euro salire ma non vedo il dollaro yen arretrare non vedo la sterlina risalire per me non è acquisto di dollari ok ok detto questo abbiamo visto l'ita 40 su cui aspettiamo il breakout di area 22 5 per poter parlare di accelerazione long andiamo a dare un'occhiata allo standard in pur 500 anche qui sul daily se non ricordo male eccolo qua no no era in h4 che stavo monitorando la situazione chiaramente che cosa si nota su questo grafico si nota che ha un angolo di ascesa esagerato mi risponderete il che è assolutamente giusto è sceso alla velocità del suono sta rimbalzando in logica abbastanza veloce verissimo però la cosa che non mi piace del venerdì che anche lo standard in pur ha fatto doppio massimo e sono tre occhio quindi occhio sono tre abbiamo visto il dax abbiamo visto lo standard in pur abbiamo visto l'ita 40 quindi un po di prudenza mi appare come dire d'obbligo ok cosa vuol dire il doppio massimo è una potenziale figura di inversione la supera benissimo acceleriamo al rialzo compriamo come dei matti ma nel frattempo un po di prudenza e quindi l'ipotesi che ci possa essere una correzione di medio breve mi sembra assolutamente plausibile ok scusatemi un attimo ho un chat in arrivo che passo a pedro sarà uno di voi hanno questa addirittura da valencia quindi non cerca me cerca sicuramente pedro quindi come vi stavo dicendo attenzione a questa coincidenza di doppi massimi su diversi indici mi sembrano assolutamente eh delle anomalie da da tenere nella dovuta considerazione eh da tenere la dovuta considerazione altrettanto giusta l'informazione che mi pare il viaggio ci ha dato all'inizio chiaramente del webinar eh nel senso che c'è una c'è una palese situazione eh di festività in arrivo quindi i mercati più importanti saranno chiusi e quindi può anche essere che il mercato rimane artificiosamente tenuto alto tenuto long per poi aspettare di Yankees come sempre per dargli la spallata eh Alessio sì mandatemi tutte le amicizie che volete ma non posso certamente rispondere adesso durante il webinar su Skype grazie ti chiamo subito ben volentieri anche dal punto di vista pratico eh guardate Spagna cosa c'è su Spagna? Dai chi risponde per primo vince un webinar come gratuito a parte di scherzi doppio massimo su Spagna guardate doppio massimo Standard & Poor's doppio massimo Milano ok doppio massimo chissà se anche il Dax no no il Dax no perché ha perso molto più degli altri per Volkswagen e Company comunque doppio massimo Italia doppio massimo Standard & Poor's doppio massimo Spagna quindi bella la proporzione della Spagna con la divergenza ma è un doppio massimo anche quello e se vogliamo non è ancora conclamato ma anche l'Eurostock 50 in H4 fa doppio massimo quindi veramente ce n'è una tonnellata di doppi massimi guardate Parigi va a beccare l'ultimo massimo relativo doppio massimo anche su Parigi non so se l'avevate notata questa cosa ma raramente mi è capitato di vedere su tanti indici questa situazione tecnica ok quindi occhio perché la situazione tecnica si fa davvero interessantissima bene abbiamo completato la parte relativa agli indici e do spazio a qualche domanda e poi vedere vorrei vedere un po la chiusura di piazza affari perché so che a molti di voi interessa allora vediamo euro yen mi dice giusto che ha un grafico interessante andiamo ora a vedere ci vuoi già anticipare perché lo ritieni interessante eccolo qua abbiamo sicuramente una figura di congestione triangolare su dinamica giornaliera stiamo andando ad impattare area 137 30 che mi sembra una resistenza da prendere con da valutare con grande attenzione fateci caso vi ho parlato di doppi massimi oggi la discesa di euro yen è partita su un doppio massimo non è quindi un qualcosa che non funzioni anche qui quasi un doppio massimo ha sentito la resistenza ed è venuto giù e lo aspettiamo adesso in questa zona 137 30 dove probabilmente potremmo assistere a una forte e violenta decelerazione guardandolo in h4 ecco qui la zona verde del target che si vedeva sul grafico daily c'è ancora spazio secondo me lo aspetterei in quest'area per poi andare a valutare chiaramente uno short selling al ribasso ma non prima in questo momento lo lascerei respirare come vuole vincenzo che me ne ha segnalato il grafico no chi era a giusto giusto ok vincenzo la fase di congestione indirizzo accelerazione che perché ti ho chiesto come ti comporteresti sulla resistenza su cosa vincenzo ti ho perso un attimo a eccolo qua domanda di vincenzo considerato il quadro euro dollaro dollaro yen come ti comporteresti su euro yen su questa resistenza dinamica partita dal 19 novembre perfetto ora comprendo il tono della tua domanda la venderei la venderei perché sono ancora bullish dollaro e quindi tecnicamente parlando credo che l'euro abbia le abbia un po il fiato corto rimbalzerà sta rimbalzando per l'amor di dio va bene ma poi dovrebbe sentire questa logica anche perché per un semplice motivo vincenzo vi ricordate la forte correlazione fra il dollaro yen e il nikei quindi i mercati azionari in generale vedi il dow jones vedi il nikei sono saliti perché cosa per svalutazione monetaria quindi in questo momento lo yen sta autorizzando una logica di svalutazione ma prima o poi deve girare anche a favore nostro l'euro non può continuare a subire le svalutazioni altrui penso quindi che quella resistenza farà il suo lavoro e respingerà un po i compratori di euro questa è la mia la mia idea il che corrisponderebbe a vedere ancora un piccolo allungo sui listini azionari il rischio è questo è il rischio che i mercati azionari non sentano quello che stiamo vedendo e che ci sia un falso breakout ancora rialzista questa è la mia idea quindi gli alert sono giusti li vado però a coniugare ad abbinare col fatto che di alert ne vediamo ma di storni zero quindi mettersi contro in questo momento mi sembra una follia perché l'azionario è palesemente ben improntato al rialzo che vi piaccia o meno quindi se si fa qualcosa con convinzione si fa buy long sui supporti se si fa qualcosa in stretto trading con stop strettissimi si fa sell short però invertendo la dinamica rischio rendimento quindi si rischia poco andando contro trend si rischia molto e con convinzione andando a favore di trend stesso ok allora sarino no non dovete parlare con me io non sono qui per l'apertura dei conti se ne occupa pedro che l'account manager della società potete scrivergli o contattarlo vedete questa è la sua email la lascio un attimino così la potete vedere anzi ve la scrivo chiunque avesse intenzione di essere assistito da da tier one nell'apertura di un conto io vi dico i prezzi sono davvero spettacolari sono sono contento in questo senso perché mi sembra una società di nicchia ma che vuol che fa un lavoro molto pulito e purtroppo ne ho viste di crude di cotte sul forex e fatemi fermare qui queste le mail di pedro calderon gli scrivete e vedrete che sicuramente subito dopo lui saprà contattarvi ok l'ho messa in chat detto questo potete certo parlare anche con me i miei contatti anche se io non è che sia eccoli qua questo è il mio skype patch x trader è la modalità più semplice per per chiacchierare con me ve lo riposto anche questo qui sulla chat quindi chi vuole fare una chiacchierata con me mi trova su skype oppure mi può scrivere un'email sul tifaciello chiocciolatier1fx.com detto ciò tutte le slide che vedete già come lo schema dei lotti saranno nell'area download dei clienti senza nessun problema il sito è in oramai è quasi pronto la prossima settimana lo troverete tutto tradotto in italiano e quest'area specifica quella dell'academy troverete davvero di tutto quindi troverete indicatori slide e qualunque cosa utilizziamo durante i nostri durante i nostri webinar abbiate ancora veramente un po di pazienza non tanto stiamo completando tutto anche perché io sono arrivato davvero da poco tempo e poveracci li ho messi sotto pressione c'era una domanda sull'indice china se non sbaglio eccolo qua dov'era dov'era domanda di massimo cosa ne pensi anche in questo caso massimo noto una certa fase di stanchezza in arrivo ancora una logica potenzialmente divergenziale a ribasso premesso che in questo momento lo yen sta brillantemente svalutando e quindi dovrebbe ancora favorire un recupero di questi listini la dinamica di discesa è stata impressionante cattiva brutta pessima il rimbalzo abbastanza corposo e consistente come tutto sommato può essere anche giusto che sia allo stato attuale direi di prestare attenzione a un questo pseudo supporto dinamico che come sul dax è un po sotto pressione non escluderei nel breve un test il l'ongong e shanghai di l'ang seng 50 sto guardando adesso non escluderei un test chiaramente di questa area di supporto dinamico che potrebbe verificarsi in area 22 mila 21 mila e 9 e qui poi non sarei sorpreso se il mercato ripartisse a rialzo allo stato attuale sarei un po attentino perché lo vedo in divergenza di bassista ok ragazzi direi che forex indice in commodities è davvero tanto e passerei alla piattaforma azionario perché molti di voi vogliono sentirmi parlare di azionario vi ho dedicato un'ora abbondante di tempo sul resto permettetemi di accogliere altre persone in webinar e di parlare con loro di azioni e per le prossime domande lunedì sono ancora qua tranquilli abbiamo portato a 500 l'ingresso nessuno di voi rimane fuori e quindi avremo modo poi per vedere un po di cose chi si deve togliere fuori dalle scatole lo faccia subito vi saluto tutti vi do appuntamento alla prossima settimana e andiamo a vedere un po piazza affari ringrazio in questo senso trader link un ringraziamento speciale perché vedete ragazzi vi ricordate mi avete chiesto durante tutta la settimana titoli ad esempio stranieri Volkswagen e quant'altro e non li avevo in piatta gli ho chiesto oggi mi hanno messo tutto il mercato internazionale o quantomeno tutto quello che avevano gli ringrazio tanto per questo mi permetto di ringraziarli facendo anche un po di pubblicità e la piattaforma che uso molti me lo chiedono email che piattaforma usi per l'azionario e questa qui la visual trader c'è una prova gratuita se non sbaglio per 15 giorni ma sono persone speciali peraltro tenete presente che la società che organizza ogni anno l'italian trading forum di rimini quindi indirettamente li avete visti all'opera sicuramente un grande team se avete bisogno di loro chiamateli contattateli ma questa è la piattaforma che uso intanto li ringrazio per avermi aumentato il mercato che posso monitorare andiamo a vedere subito cosa è successo a piazza affari oggi l'indice l'abbiamo già analizzato a 2a meno 099 grazie giovanni a 2a 099 meno fase di come dire di prese di beneficio nulla di più intanto il dax rimane in area 10.000 10.086 future atlanti a 0 a 0 palla centro sapete che su questo titolo sono short la mia idea è che vada a sentire questa ha sentito sicuramente l'area massimi in maniera abbastanza precisa ha breccato il primo supporto dinamico ha disegnato divergenza ribassista e quindi per me viene o qui o qui dove diventa di nuovo da accumulare perché comunque un titolo inserito in una dinamica long molto buona si fabrizio ci può stare ci può stare la tua idea di seguire la battuta di fine perché arriviamo sempre lunghi col forex non riusciamo mai a vedere la chiusura di piazza affari prendo in considerazione questo suggerimento diamo un'occhiata anche ad azimuth anche qui il rimbalzo è abbastanza corposo anche qui una bella divergenza rialzista dovrebbe fare 22 secondo me non ha esaurito la sua forza banco popolare sono ancora in posizione anche su questo titolo mi aspetto che vada in area 14.50 salvo fasi di momentario indebollimento dell'indice in generale dovuti a questo a questa ipotetica correzione di breve che mi sembra possa essere in canna per quanto riguarda piazza affari e compagni arriviamo poi anche sul popolare emilia romagna e questa in tante montepaschi di siena che ho liquidato l'altro ieri su questi sui prezzi di 1.75 più 12 per cento sono stato contento mi sembra strano che non abbia completato questo target qui l'area 1.80 1.79 se dovesse superare questa resistenza però è da accumulare ancora perché ribadisco nel lungo è stra venduta e va comprata sulla debolezza non bisogna più averne paura perché è stata strapolita dalle autorità di controllo arriviamo a popolare emilia romagna su cui alessio ha una domanda da fare dice vedo una divergenza short in h4 allora intanto popolare emilia romagna oggi aveva tentato il breakout di questa resistenza adesso quindi attenzione perché ci si era messa su seria in chiusura è rientrata come vedi quindi attenzione a lavorarla short in h4 come tu chiedi ci andiamo subito vediamo se c'è questa divergenza la divergenza c'è te lo confermo e a questo punto in ottica squisitamente speculativa si apre uno scenario interessante perché perché hai sia la divergenza di alzeri bassista bell'analisi complimenti sia un falso breakout perché questo è un falso breakout ha chiuso sotto la trendline vedi quindi tecnicamente parlando abbinerei a queste due view un supporto dinamico anche estremo come diceva serino ecco allora lunedì ti rompa 770 andrei short senza paura che peraltro è quello che è appena scritto si condivido mi piace l'analisi operativa che ci può stare e probabilmente se lunedì me lo ricordi magari entro short anche io si mi piace mi piace nella tua analisi aver osservato due fattori spero che tu abbia osservato tutti e due anzi da quello che scrivi lo hai fatto sia la divergenza short sia questo lo aggiungo io il falso breakout sapete che le figure di falso breakout naturalmente creano effetto contrario quindi un'accelerazione in senso inverso per il semplice motivo che su questo breakout psicologicamente molti sono andati long e adesso se buca qui sono costretti a fare stop e reverse quindi a raddoppiare i volumi creando uno sbilanciamento della domanda e dell'offerta quindi troppa vendita in arrivo il mercato non l'assorbe e viene giù velocemente potrebbe succedere grazie alessio la teniamo l'occhio ritornando a grafici giornalieri ecco qui in grafica delico e dove può arrivare alessio e può arrivare può arrivare addirittura in area 7 12 quindi può fare tanta strada non è ancora detto cioè non pesate per favore più di quanto lo faccia io le mie parole sto parlando di un'ipotesi di breakout con divergenza h4 in dinamica squisitamente speculativa popolare di milano meno 0 99 per me rimane un titolo da shortare a me non piace come si sta muovendo perché aveva un bel supporto dinamico l'ho rotto e ritornato e questo per me è un pullback ribassista mi mordo le dita perché avrei dovuto venderla già oggi e non l'ho ancora fatto spero non mi strappi al ribasso lunedì però per quanto mi riguarda anche come titolo per come dire ammorbidire un po un'esposizione eccessivamente lunghi dei portafogli popolare di milano può essere interessante comunque non la comprerei allo stato attuale mettiamola così buzzi unicem è ancora lontana dal supporto dinamico strategico che abbiamo individuato insieme da giorni la aspettiamo in area 14 benvenga se decelera verso quella zona lì poi la andremo a rivalutare campari più 0 89 ancora combatte con la vecchia area di supporto quindi si è creata anche in questo caso un po come se vi segnalavo su popolare di milano si è creata una logica pullback short no è chiaro che su popolare di milano è stato più efficace qui il titolo è davvero molto pulito e molto solido quindi sembra quasi che sia stato falso il breakout e si sta andando in ricopertura per il momento però la vedo ancora sotto resistenza e non mi va di segnalare un buy long ce n'è anche industrial più 1 73 oggi benvenga ero long sul titolo mi sto leggermente alleggerendo però credo possa fare tranquillamente area 6 80 6 e 90 lunedì si scende mi dice vincenzo non lo escluderei non lo escluderei per l'analisi che abbiamo fatto tutti insieme niente di che se vediamo il sbucare quel supporto lunedì scendiamo eccoci su enel anch'essa si ferma in area 4 e 10 dopo tecniche dove tecnicamente parlando è stata una zona molto lavorata niente di particolare graficamente nunzio vobis che sono uscito con un ottimo guadagno da enel green power contento soddisfatto abbiamo portato a casa mi pare quasi il 6 per cento in pochi giorni non ha finito la sua corsa secondo me sale ancora ho liquidato semplicemente perché oggi ho liquidato il 30 per cento del portafoglio azionario su cui faccio consulenza e volevo rimanere un po più flat durante il weekend non escludo di rientrare sui titoli che ho venduto oggi qualora milano dovesse decise di tirare ancora però per il momento in poco tempo grosso gain si porta a casa come mi diceva mio padre vendi guadagna e pentiti ok queste eni la tendo ancora in area 16 ma nel frattempo sente il primo la prima area di resistenza dinamica che avevamo tracciato vi ricordo abbiamo due resistenze da tenere in considerazione quella di lungo che questa qui è quella di medio breve che appunto è stata impattata oggi vado un po a zoomare quindi quella di medio breve per ora contiene eni io credo che se il petrolio come credo rimbalza ancora un po e ini va tranquillamente a 16 e lì poi facciamo i conti con un trend discendente di lungo e sarà opportuno fare grandi grandi considerazioni vedete 1 2 stiamo aspettando il terzo punto di impatto in quest'area vediamo cosa succede non è certamente il momento per entrare lungo sul titolo questo poco ma certo exor più un per cento sono contento ce l'ho ancora in portafoglio lavoro su una logica di pullback un po come per campari quindi voglio vedere di questo grande drawdown stante una evidente divergenza di alzista e stante l'evidente divergenza di bassista prima che la cosa più bella è scesa con una divergenza spettacolare voglio vedere quanto recupera di questo drawdown un po troppo rapido vediamo vedremo nella prossima settimana nicoletta per qualunque cose inerente il discorso azionario il nostro trading club scrivetemi sulla mia email per favore personale perché non ha nulla a che vedere con i servizi di tier one che peraltro mi permette di portare avanti questa attività libero professionale in quanto non con non in conflitto di interessi quindi in questo caso cortesemente quando volete fare una cacchierata scrivetemi e lasciatemi i vostri riferimenti sulla mia email personale pietro.pacello che ho sulla gmail.com se mi avanza un po di fiato e di respiro vi chiamo anche a fine webinar se volete grazie a voi allora questa exor mi sembra che sia davvero ancora ben impostata come vi dicevo fiat chrysler più 260 anche oggi attenzione alert warning drizzate le antenne perché perché sta arrivando ad impattare la resistenza dinamica il crocevia di resistenze che seguiamo da qualche giorno quindi abbiamo un doppio punto di impatto sapete che per me sono punti cardine del mercato la prima la vecchia area di supporto e la seconda la resistenza master quando arriva qui non sono solo io a vederlo ma lo vedono centinaia di analisti finanziari e credo che in quell'area un po di vendite potrebbero e dovrebbero arrivare quindi siamo un po a fine corsa nel breve su fiat eh da terrei terrei questa segnalazione nella dovuta considerazione anche se vi arriva da un rialzista e io in questo momento sono rialzista su piazza affari credo lo abbiate intuito fin meccanica più 1.08 brillantissima ha rotto la resistenza di breve quindi per il momento rimane in una situazione stralong assolutamente purtroppo ha sfiorato il nostro livello di ingresso tempo fa scappata via generali nella terra di nessuno non merita grandi approfondimenti intesa san paolo oggi l'ho liquidata avrei potuto farlo l'altro ieri un po meglio ma oggi volevo alleggerire come vi dicevo credo sia ancora ben orientata al rialzo però essendo un titolo che segue veramente a ruota quindi quando abbiamo parlato di correlazioni prima ad esempio fa vi ricordate yen e nickey beh se c'è una correlazione su piazza affari quella fra intesa san paolo e l'indice si muovono davvero di pari passo se mi aspetto se il dubbio che ci possa essere una piccola correzione sull'indice per il momento mi tiro fuori da intesa san paolo e spero essendo un rialzista per i prossimi mesi di riuscirla a ricomprare di nuovo a ridosso del supporto quindi l'aspetto sul supporto dinamico eventualmente per rientrare si giovanni confermo per il momento sono soddisfatto in gain tiro e mi tiro fuori vediamo se c'è correzione se ci va a baciare di nuovo quel grande supporto dinamico eccoci a lux ottica più 0 32 cosa dire perfetto trend rialzista nulla nulla questo ecco a mediaset meno 4 per cento oggi casuale rispondete voi è casuale la discesa di mediaset di oggi chissà perché noi poveri banali analisti finanziari avevamo segnato questa resistenza dinamica avevamo già individuato il potenziale punto di impatto di mediaset che a quanto pare l'ha sentita e lì sono scese le vendite può pull backare su questa zona 4 40 e poi ripartire o meglio ancora se ritorna in quest'area e la ricompriamo di nuovo però semplici trend line di supporto di resistenza aiutavano a non farsi trovare fra virgolette impreparati dalla dinamica attuale di mediaset e a liquidare stamattina in apertura se non meglio ancora ieri in fase di chiusura mercato era la stessa cosa comunque questo tipo di strutture con questa analisi molto basica non dovrebbero più sorprendervi eccoci a medio banca meno 1 e 10 giovanni bellissima questa allora questo questa è una cosa da approfondire giovanni dice la resistenza dinamica sapeva che i conti non erano buoni te la trasferisco in altro modo secondo te c'era qualcuno che aveva informazioni prioritarie sull'andamento dei conti di mediaset c'è qualcuno che può saperlo prima che i dati vengano divulgati io direi di sì ed è probabile che qualcuno abbia secondato la dinamica fino a che non è arrivato sotto resistenza e che stamattina abbia mollato il pacco è semplicemente uno squilibrio domanda offerta ricordate che quando io dico me ne frego dei bilanci o di tutt'altro e guardo i grafici perché come vedete i grafici contengono tutto non è che io dica ha sentito la resistenza è scesa ha sentito la resistenza è scesa e giustamente tu mi aggiungi a posteriori perché prima non lo potevo sapere sono usciti anche bilanci non dati di bilancio non buoni causa effetto si invertono si danno il cambio ma di fatto il mercato casualmente arriva sotto resistenza e arrivano i dati negativi non me ne frega del perché succede ma succede continua a succedere e quindi dal punto di vista pratico come dice giorgio forse ieri berlusca ha venduto un bel pacchetto di roba quando qualcuno ha boccato al lamo della resistenza del comprare purtroppo in maniera tardiva quindi o si entra bene sul mercato o è meglio sarsene alla larga il bravo trader è quello che sa dire sono in ritardo questa operazione la ignoro e non la faccio non le faccio tutte per forza quindi ricordate i prezzi contengono tutto inutile rompersi la testa a cercare di capire dove andranno osservateli e agite di conseguenza medio banca meno 1 e 10 l'abbiamo vista la stiamo vedendo probabile test imminente di area 8.70 dove si potrebbe riaccumulare long mediolano meno 1 86 anche qui io non so perché è scesa oggi o meglio lo so perché mi ha intervistato davide pantaleo e troverete l'articolo a breve su trend online però al di là del fatto che si è scesa perché i dati sulla raccolta non sono positivi vi sembra casuale che i dati siano arrivati adesso quando attestato la resistenza dinamica di breve per la quarta volta punto 1 più punto 2 punto 2 dal punto 3 punto 3 dal punto 4 io non credo alla casualità o meglio credo che i grafici contengano tutte le informazioni che ci servono su questo sono talebano tra virgolette andiamo a vedere moncler più meno 0 50 oggi sono ancora in posizione long su moncler per ora non sta accelerando come ho detto anche ieri aspetto un imminente breakout di questa zona di congestione se succede è un bel trade per il momento sono entrato bene sono in leggero gain sto tranquillo finché si mantiene sopra a 15 e 40 al di sotto vado via dal mercato senza problemi prismian più un per cento ballonzo l'attorno alla resistenza andando sostanzialmente ad esemplificare che non la sente per niente esatto giorgio ma il concetto è proprio quello siccome giorgio dice più che altro mi viene da chiedere se è stato casuale casuale la salita che ha portato il titolo fino alla trend line è proprio questo siccome noi non abbiamo una risposta a queste domande ma sappiamo che succede guardiamo i grafici punto e viviamo tutti quanti meglio prismia quindi abbastanza difficile da analizzare in questo momento palese l'area di supporto dinamico a 17 70 saipem più 293 occhio anche qui mi tocca farvi suonare un mega campanello di allarme l'avete visto il grafico di saipem ha una struttura chiarissima grande supporto statico a 7 grandioso grande resistenza dinamica a 9 ci siamo quindi questo è il momento della verità per saipem dove era il punto d'ingresso adesso no su saipem bisognava entrare quando ha breccato quest'altra resistenza entrare adesso è tardivo si rischia di rimanere impiccati come successo su mediolanum o su mediaset se però la prossima settimana si porta sopra l'area di resistenza aspetteremo un bel pullback e sul pullback ci mettiamo tutto quello che possiamo dobbiamo saper aspettare quando una cosa è andata è andata né più né meno si chiama easy whiteboard non traccia le linee sul grafico alessandro le traccia solo per le videoconferenze quindi non è che queste linee che disegno le posso mettere sui grafici realmente è un programma freeware se mi iscrivi ti mando il link anche su su skype me l'ha chiesto anche un'altra persona stamattina comunque lo trovi online easy whiteboard è un freeware che io uso da tanti anni e questo è salvatore ferragamo no comment mi ha stoppato e poi è partita questo è st micro elettronis questo è da comprare ragazzi sulla debolezza bisogna cercare un'accumulazione la mia speranza perché ha rotto un trend di bassista di lungo e lo ha rotto con che cosa con divergenza long ancora una volta quindi ancora una volta questa figura propedeutica all'inversione si è verificata eccola qua ha rotto al rialzo aspettiamo che faccia la prima accelerata quella dei dei più passionari degli emotivi poi fisiologicamente dovrebbe tornare giù ritestare la trend line di che ha violato al rialzo e in questo caso pullback rialzista e noi dobbiamo farci trovare pronti e liquidi per entrare al momento se ce l'avete in posizione tenetevele io non riesco ad entrare in questa configurazione tecnica anche su telecom mi astengo perché mi ha stoppato e del partita a parte di scherzi molto tonica finché si mantiene sopra rea 1 nulla da dire complimenti al titolo eccoci a tenaris casualità casualità che sai permette nariz arrivino tutte e due di venerdì sera sotto resistenza cosa stanno aspettando secondo voi questi due titoli che hanno ricordate eni vicino a 16 comunque cosa stanno aspettando cos'è per eni violare 16 e uno 0,35 per cento di rialzo che stanno aspettando questi titoli stanno aspettando di vedere che cosa fa il petrolio perché se il petrolio accelera questi lunedì partono a scheggia tutti e tre se il petrolio invece fa 52 50 magari 52 nella giornata di oggi e poi sente la resistenza inizia a decelerare qui arrivano le prese di beneficio veloci 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 quindi non mi sembra casuale che eni saipem e tenaris tutte e tre abbastanza dipendenti per motivi diversi dalle quotazioni del barile siano tutte e tre sotto una resistenza di lungo termine ricordate queste tenaris queste saipem stessa cosa queste eni che avete visto essere vicinissima la sua resistenza casualità direi assolutamente di no il petrolio sta arretrando dai massimi di giornata come mi dice giannetto fra un po andiamo a rivedere e comunque la mia è un'idea è un'idea abbastanza di come dire di fondo eccoci a terna nulla da dire al riguardo eccoci su tots più 2 59 oggi ecco il breakout che aspettavamo ieri ve lo ricordate parlavamo di un'accelerazione in arrivo in effetti mi sembra che oggi abbia iniziato un movimento di ricopertura interessante peccato non sia arrivata in area 73 dove avrei voluto comprare con un rapporto disco rendimento percorribile quello attuale per quanto mi riguarda non lo è però chiuderei le posizioni short sul sul sull'indice ubibanca più 1 0 6 no giannetto giannetto scrive oil sta arretrando dal massimo di giornata non era per contraddirti giusto una info ma invece mi dovete contraddire sto parlando da un'ora potete mai immaginare che stia dicendo cose solo cose intelligenti fosse non altro che per la stanchezza inizia a dire un sacco di stupidaggine adesso ubibanca occhio alla prossima resistenza in area 6.85 dovrebbe sentirla e potenzialmente decelerare se la supera ovviamente vola lo stesso vale per unicredit che sta stabilizzando vicino all'area dei precedenti toccata più volte la zona del 5 90 niente di particolare da dire se non che in caso di accelerazione va a 6 e 25 veloce unipol sai più 1 e 12 lontana dal suo target in zona 450 a mio parere quindi ancora long diversa la situazione tecnica su unipol sai che come vedete oggi sta breccando la resistenza quindi occhio perché questa è una bella accelerazione mi mordo le dita sono sincero perché questa divergenza di alzista l'avevo vista ne avevamo parlato avevo mi ero ripromesso di comprare il breakout purtroppo non l'ho fatto perché mi sono distratto perché avevo da seguire tante altre cose probabilmente ma era un'operazione che avevo visto e che come vedete avrebbe reso davvero molto bene sono operazioni che dovreste essere capaci da qui a x e soprattutto spero dopo l'academy di fare da soli e aiutare anche il sottoscritto quando le trascura ad entrare in posizione con tempestività quello che voglio creare un team di persone che può collaborare condividendo un approccio strategico univoco perché altrimenti non parliamo la stessa lingua e facciamo una gran fatica se iniziamo uno dice compro perché ha rotto la media mobile un altro perché ha usato le bande di bollinger purtroppo nessuno sbaglia probabilmente ma si fa una fatica boia a ragionare su qualcosa invece nel momento in cui condividiamo una tecnica chiaramente dopo averne appurato che sia una tecnica intelligente e credo che la mia lo sia onestamente si può davvero cooperare tutti e quando iniziano i webinar si dice occhio lì pietro occhio lì occhio lì e come vedete io a cliccare non ho paura per quanto riguarda la domanda di stefano dove può arrivare un ipolsai in questo caso stefano lo vedi faccio un po difficoltà e quindi mi affido ai ritracciamenti di fibonacci lo faccio sempre quando la il titolo non ha lasciato zone particolarmente interessanti credo che ci sia un imminente test di area 232 ma la zona che probabilmente sarà più toccata dalle quotazioni quella più sensibile e quest'area qui 50 di fibo in zona 235 potrebbe tranquillamente allungare verso quell'area al mio modestissimo parere vuol dire di free non esiste più yux continua a ballonzolare sull'area di supporto dinamico senza andare da nessuna parte 18 06 mi sembra no giusto mai guardato le divergenze inverse già io mi sono inventato le divergenze rialziste ribassiste figurati se mi invento le inverse mi richiudono subito in qualche in qualche casa di cura a parte gli scherzi io avrei avrei completato la mia la mia analisi se non avete qualcosa su cui volete come no roberto rw e lo vediamo subito per roberto allora adesso il momento se volete di farmi qualche domanda vi chiedo solo una cortesia non tante non tante perché sono leggermente stanco non perché non voglio accontentarmi e allora mercato eccolo qua tutti allora vediamo per roberto questo titolo non riesco a trovarlo eccolo qua allora ah ok 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 stavo dicendo rwa una configurazione grafica l'avevamo già visto mi pare qualche giorno fa se non erro mi piace molto per quanto sia un titolo sottile mi piace molto l'impostazione tecnica di questo titolo lo avevo già detto forse a roberto perché perché c'è una delle mie affascinanti divergenze rialziste lo vedete eccola qua abbiamo massimi crescenti e minimi decrescenti sui prezzi minimi decrescenti sul cci ai ragazzi è arrivata la stanchezza credo che il titolo possa e debba ancora accelerare andando ad impattare queste resistenze dinamiche che sto mettendo in rapida successione e credo che una zona potenziale potenzialmente di target tecnico sia l'area dei 15 euro operazione quindi terrei ancora la posizione anche perché roberto è palese che questo titolo ha una correlazione pare a zero con l'andamento complessivo di piazza affari quindi anche se gli indici dovessero correggere non è certamente su rwa che avviene la correzione quindi per quanto mi riguarda la terrei c'è qualche altro titolo azionario ciao mimmo certo che siamo ancora qui il caffè non ce l'ho ne ho bisogno ma in questo momento non ce l'ho sto registrando e quindi la mettiamo online appena ho finito per quanto riguarda bravo mimmo grazie hai aperto un conto sono contento per tier one ragazzi io vi devo dire una cosa io non ho nessuna attinenza con l'apertura dei conti però è evidente che loro si aspettano che il mio consenso si trasformi in operatività da parte vostra se aprite dei conti solo per fare l'accademia liberi di farlo ma siccome il broker non fa di l'indesca non guadagna interessi sui conti non gliene frega assolutamente nulla ci faccio solo una pessima figura io io spero che pur partendo da presupposti di questo tipo possiate davvero vagliare la qualità del book soprattutto sul forex è davvero eccezionale e che possiate considerare seriamente questo broker non dico che questo ve lo dovete ma spero che mi riconosciate lo sforzo che mi stanno facendo mettere in campo davvero dandovi una grande spero una grande qualità in termini di assistenza tutto qua io cercherò di darvi buon diritto ovviamente l'avete visto per il momento non sono malvagie grazie ancora a chi ci sta chiamando allora altre domande la registrazione fra un po sarà disponibile sulla mia area facebook ricordatevi che a breve la troverete salvata invece nell'area riservata ai clienti della trading academy Alessandro un parere sui fondamentali di Volkswagen tu dici un parere sui fondamentali di Volkswagen non sul grafico allora stai parlando con una persona che di fondamentali ha visto a stento quelli del proprio conto corrente nel senso che io non valuto i fondamentali delle aziende l'ho già detto più volte e quindi sono davvero il meno adatto a darti una un parere qualificato di questo tipo posso invece perché lo so fare guardare un grafico che che tu ne pensi che che tu voglia e quindi il grafico è cosa mi trasferisce un attimino solo andiamo indietro nel tempo questo è lo storico sul grafico chiaramente vediamo una logica divergenziale in creazione lo vedi abbiamo il CCI che chiaramente devastato punta verso l'alto e i prezzi verso il basso quindi tecnicamente parlando la fase distributiva sembra copiosamente decelerare su Volkswagen potrebbe iniziare un movimento di ricopertura è evidente che è ancora un coltello che cade e quindi con tutti i rischi del caso probabilmente se deve essere comprato deve essere comprato adesso perché altrimenti il rapporto rischio rendimento diventa un po' pericoloso bisognerebbe poi domandarsi se è opportuno farlo Mario con che leva opero? anche in questo vi farò vedere come monitorare il leverage in tempo reale comunque normalmente mi vuole uovo con una leva massimo 10-15 al di sotto della stessa soprattutto sul forex credo non ne valga la pena perché il forex fa delle escursioni intraday molto basse in termini percentuali io dico che sul mercato bisogna starci meno tempo possibile quindi se aumentate un po' la leva potete entrare e uscire più velocemente è anche vero che si può perdere più velocemente però come diceva una pubblicità la potenza è nulla senza controllo se la state usate la leva è un vantaggio Saras assolutamente sì la andiamo a vedere se la trovo eccola qui eccoci a Saras sta scricchiolando sul touch del supporto stamattina era partita molto bene sapete che sono in posizione long ve l'ho detto ieri siete degli aficionados sono log sulla divergenza e sulla tenuta del supporto stamattina ero molto contento perché battevo un più 3% poi si è leggermente indebolita il mio stop è in area 1,74 per il momento siamo ancora in posizione però pericolosa sotto 1,74 perché a quel punto avrebbe mollato questo supporto Andrea Vincenzo cosa significa 10 o 15? non è una domanda a cui posso rispondere adesso posso solo dirti che se hai un capitale di 10.000 euro puoi lavorare fino nel nostro caso addirittura a 2 milioni di euro chiaramente suicidandoti io vuol dire che lavoro il denaro che ho depositato per 10 o 15 volte quello che batte quindi con 10.000 euro mi espongo fino a 150.000 non oltre ok? allora io vi ringrazio tutti grazie Marco anche a te per aver deciso di aprire un conto chiaramente il ringraziamento è davvero di cuore Silvio dice un saluto a Larry Williams del tavoliere no, prima di lasciarvi voglio vedere il DAX non me ne scappate dai, un attimo dollaro-yen sempre tonico USDCAD sempre short euro-dollaro ancora super tonico stellina a farlo scherzetto sono contento di essere uscito voglio dormire questo weekend Australian dollar ipertrofico grandioso New Zealand la divergenza è da tradare secondo me la prossima settimana teniamola d'occhio Nikkei ancora buono DAX vedete ci prova a bucare ci sta provando ma non c'è pressione ovviamente l'ITA40 ha chiuso benino doppio massimo ITA40 doppio massimo Standard & Poor's 500 doppio massimo Spagna doppio massimo Eurostock doppio massimo Francia che dice? dice probabilmente di avere un po' di prudenza andiamo long di oro sicuramente l'ho appena fatto davanti a voi idem di casi l'argento è positivo petrolio perfetto guardate com'è preciso sul supporto vuol dire che le mani forti continuano a marcarlo non è normale che appena pizzica questa stupidissima trendline che io ho tracciato guardate qua reagisce quindi è ancora sotto attacco long il petrolio a questo punto io rischio la vita se vado avanti la passione è tanta ma l'età inizia a fare i suoi effetti vi ringrazio tutti vi saluto sì con Tier One potete lavorare a leva per tante domande scrivetemi contattatemi su Skype fatemi solo una cortesia non fatelo oggi che è venerdì sera lunedì sarò veramente a disposizione per tutto grazie ancora e mi raccomando se aprite i computer durante il weekend e guardate dei grafici non vi saluto più nel weekend i computer vanno spenti e godetevi la natura e la famiglia ciao boys enjoy enjoy